allora valerio vanacore a caldo letteralmente a caldo dopo un grande inizio per i veco prima gara e prima soddisfazione guarda per me è stato il primo misano quindi veramente è una una soddisfazione anche essere qua e vedere questa questa corsa sicuramente nell'insegna della sostenibilità col primo pace track alimentato ad lng i veicoli in gara alimentati ad hwo mi spiace per il team su abentrac perché poteva essere una bella doppietta i veco però dai il primo posto è il nostro e alle spalle appunto abbiamo avuto la pista che ha ospitato in giorni difficili per l'elminia romagna ma comunque è stato un momento per tornare anche a parlare il prodotto di un avvenimento che comunque in italia è sempre molto atteso quello in misano sì sicuramente dispiace essere qui in un momento triste per questa regione però ci tenevamo ci tenevamo ad esserci è un momento importante per per i veico e per il team tutto siamo tutti qui a attivare per la nostra squadra l'appuntamento a domani l'appuntamento a domani grazie mille